Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per quando usciranno i prossimi video. Avete mai sentito parlare di varianza o deviazione standard? Beh, oggi voglio continuare con voi un argomento di statistica, ovvero parlare degli indici di variabilità. Io questo argomento già l'avevo affrontato in un altro video che vi lascio il link qua sopra, in cui in particolar modo mi ero soffermata sullo scarto medio-semplice e sul campo di variazione. Invece, come vi avevo accenato anche prima, oggi voglio vedere la varianza e la deviazione standard. Le andremo ad analizzare in particolare e separatamente prima la varianza e poi la deviazione, per poi vedere sia le analogie ma anche le differenze tra questi due indici. Iniziamo con l'introdurre che cosa sono gli indici di variabilità. Noi sappiamo che se prendessimo un valore medio, questo ci può aiutare a precisare la posizione di una specifica successione o di una distribuzione che noi prendiamo in considerazione. Questo vuol dire che andiamo proprio a valutare la tendenza centripeta dei dati della successione o della distribuzione che noi stiamo andando a considerare per il valore medio. Però, tale valore non è sufficiente a caratterizzare una successione o una distribuzione perché noi è come se andassimo a prendere solo alcuni valori, quindi alcuni dati della successione stessa. E quindi non consentirà di percepire proprio quali siano le effettive grandezze dei valori da cui esso è ricavato. Infatti, già nell'altro video, come vi avevo anticipato, quando parlavamo di indici di variabilità, in particolar modo sul campo di varianza, potevamo vedere che questo era semplicemente dato dalla differenza tra il valore massimo e il valore minimo di una distribuzione o di una successione. Quindi andavamo a prendere solo due valori della distribuzione totale e per questo ci potevano essere comunque delle anomalie nei dati o comunque errori alla fine della nostra valutazione dei dati contenuti all'interno della distribuzione stessa. Infatti, noi possiamo vedere che comunque due distribuzioni possono avere uguale media, ma sicuramente questo non vuol dire che i dati presenti all'interno della distribuzione siano uguali tra loro. Anzi, sicuramente saranno costituite, quindi caratterizzate, da valori totalmente diversi. Quindi possiamo sintetizzare il tutto dicendo che se noi prendessimo appunto un insieme di dati e andiamo a calcolare la media, sicuramente stiamo perdendo delle informazioni sui dati stessi che sicuramente la distribuzione conteneva rispetto a quello che noi andiamo a calcolare attraverso la media. Da questo quindi possiamo capire che vi è bisogno di un altro parametro, quindi di un altro valore che non mi faccia perdere queste informazioni della distribuzione che io vado a considerare. E questa si può anche chiamare come variabilità che appunto mi permette di ottenere una precisione più accurata dei valori presenti all'interno della distribuzione. Infatti, la variabilità è l'attitudine di un fenomeno ad assumere misure diverse tra loro. Detto ciò, andiamo a vedere che cos'è la varianza. La varianza di un insieme di dati o di una distribuzione di frequenza è una misura di dispersione che si ottiene tramite la media dei quadrati degli scarti della media aritmetica. Ovvero, se lo volessimo vedere attraverso dei simboli, la varianza, ovvero sigma al quadrato, lo possiamo scrivere come il rapporto tra la sommatoria con i che va da 1 a n di x i meno mu al quadrato tutto fratto n. Oppure, lo possiamo anche scrivere sempre come il rapporto della sommatoria con i che va da 1 a k di x con i meno mu tutto al quadrato per n i tutto fratto n. È possibile però, oltre a queste due formule, usarne un'altra in maniera molto più semplificata che si ottiene tramite lo svolgimento, quindi la semplificazione, di questa formula che avevamo scritto precedentemente e lo possiamo scrivere come il rapporto sempre della sommatoria con i che va da 1 a k di x con i al quadrato per n i tutto fratto n e fuori dal rapporto mettiamo meno mu al quadrato. Però, da come possiamo vedere attraverso questa formula, la varianza presenta uno notevole inconveniente in quanto possiamo vedere essere espressa proprio attraverso il quadrato dell'unità di misura delle osservazioni che noi stiamo facendo. Per cui, se ad esempio le osservazioni che noi facciamo sono in metri, otteniamo sicuramente che una varianza sarà espressa in metri al quadrato. Quindi dipenderà sempre dall'unità di misura delle osservazioni che stiamo facendo. E questo ovviamente può darci dei problemi quando noi effettivamente vogliamo calcolare la varianza ma non essere soggetti all'osservazione applicata. Per questo motivo, infatti, su uno stesso diagramma non sarà mai possibile graficare sia la varianza sia la distribuzione, in quanto sicuramente le osservazioni avranno delle unità di misura diverse che potranno farci incorrere in problemi e in errori. Per ovviare a questo problema di cui vi avevo parlato, molto spesso infatti si preferisce usare la radice quadrata della varianza e ottenere un altro indice di variabilità, ovvero la deviazione standard o scostamento quadratico medio. Infatti, se noi tornassimo nelle formule, la deviazione standard non è altro che appunto la radice quadrata di questa formula, ovvero sigma sarà proprio uguale alla radice della sommatoria con i che va da 1 a n di x con i meno mu tutto al quadrato tutto fratto n, ovvero lo possiamo scrivere anche con quest'altra formula che avevamo messo di qua, ovvero sempre come la radice del rapporto della sommatoria con i che va da 1 a k di x con i meno mu tutto al quadrato per n con i tutto fratto n. E questa è proprio la deviazione standard. Visto appunto le formule della deviazione standard, andiamo a capire effettivamente che cos'è. Questo è un indice di variabilità altamente rappresentativo del maggiore o minimo addensamento dei dati attorno al loro valore medio. Questo molto spesso si preferisce rispetto allo scostamento medio semplice perché permette di risaltare e permette di considerare anche le variazioni più piccole delle distribuzioni che noi stiamo andando a considerare, cosa che con lo scostamento medio semplice non ci permetteva di farlo. Quindi la deviazione standard va a rappresentare una variabilità più sensibile. Inoltre se noi andassimo a considerare il numeratore della mia deviazione standard possiamo vedere che questa rappresenta un altro indice ovvero la devianza. Infatti la devianza rispetto a un carattere x si può scrivere in due modi in base a se stiamo considerando una successione o una distribuzione. Infatti questa la possiamo scrivere come la sommatoria con i che va da 1 a n di x con i meno mu al quadrato se stiamo considerando una successione. Invece se stiamo considerando una distribuzione questa sarà uguale a i che va da 1 a k di x con i meno mu tutto al quadrato per n con i. Quindi è lo stesso discorso che facevamo prima. Abbiamo distinto sia la deviazione standard ma anche la varianza così come la devianza sia per quanto riguarda una successione ma anche per quanto riguarda una distribuzione. A questo punto facciamo un esempio per vedere effettivamente come calcolare lo scostamento medio di una media aritmetica. Quindi se prendiamo questa successione ovvero 3, 5, 15, 23 e 28 andiamo come prima cosa a calcolarci la mu e quindi facciamo la somma di questi valori della successione fratto il numero dei valori presenti nella successione e quindi otteniamo proprio 74 fratto 5 che sarà 14,80. Se noi poi ci costruissimo appunto questa tabellina dove andiamo a mettere il valore iesimo poi il valore iesimo meno la media e il valore iesimo meno la media tutto al quadrato in modo tale che a questo punto ci possiamo calcolare non solo la varianza ma anche la deviazione standard dove la varianza noi la possiamo anche scrivere come la devianza fratto il numero dei valori presenti all'interno della successione. E infatti verrà proprio 95,36. Invece per quanto riguarda la deviazione standard abbiamo detto non è altro che la radice della mia varianza e quindi facciamo direttamente la radice di sigma al quadrato ovvero 9,77. In questo modo abbiamo calcolato i due indici e abbiamo concluso l'esercizio che volevamo. Ovviamente al numeratore invece della devianza possiamo andare a scrivere proprio la sommatoria con i che va da 1 a n di x con i meno mu tutto al quadrato anche perché tanto questi valori li abbiamo già direttamente nella tabella che ci siamo costruiti e andiamo a fare direttamente i nostri calcoli. A questo punto andiamo a vedere proprio le comparazioni per quanto riguarda la devianza e la deviazione standard per poi passare alle differenze tra questi due indici. Allora iniziamo con questo grafico comparativo. Possiamo vedere che la varianza non è altro che un valore numerico che va a descrivere proprio la variabilità delle osservazioni della sua media aritmetica mentre la deviazione standard è una misura della dispersione di osservazioni all'interno di un set di dati. Oltre a questo possiamo dire che la varianza è la media delle deviazioni al quadrato mentre la deviazione standard sarà proprio la radice quadrata della varianza. Infatti come avevamo detto prima la varianza si scriverà come sigma al quadrato mentre la deviazione standard solo con sigma perché appunto è la radice quadrata della varianza. Però possiamo dire che la varianza è espresso in unità quadrate perché appunto sarà un sigma al quadrato mentre la deviazione standard sarà espresso con le stesse unità dei valori nel set di dati. Ma effettivamente che cosa vanno a indicare sia la varianza che la deviazione? La varianza va a indicare quanto distano gli individui in un gruppo mentre la deviazione ovvero quante osservazioni in un set di dati differiscono dalla sua media. Per concludere questo video menzioniamo giusto due analogie per quanto riguarda la varianza e la deviazione e possiamo dire che entrambi gli indici sono positivi e che se tutte le osservazioni di un set di dati sono identiche allora sia la deviazione standard ma anche la varianza saranno pari a zero. Bene quindi con questo per oggi terminiamo abbiamo visto non solo che cos'è la deviazione standard la varianza un esempio ma anche le differenze e le analogie di questi due indici. Io spero che come sempre questo video vi sia piaciuto se così non vi dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se siete nuovi. Poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!